Buongiorno, facciamo messaggi del Sibile di Nostradamus, scelgo una carta, vediamo se è sull'amore, sulla salute, vediamo un po', cioè salute no scusate, salute non c'entra nulla. Allora, il messaggio di oggi è il fanciullo, le vostre azioni suggerite dalla bontà e dalla semplicità del vostro animo vinceranno le insidie dei vostri nemici. La carta, vediamo se, ok, il buon nulla teme e la natura dei cattivi è d'aver sempre paura. Questo è il messaggio di Nostradamus di oggi. Vi auguro una buona giornata. Grazie.